Salve cari amici, tutto benissimo, sono Francesco e bentornati nella sua fede di camera mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di speciale Brandon, 128 pagine, interamente a colori, 6,30 euro, ritorno al regno del non mai. Scritto da Claudio Cheverotti, autore di Brandon e di Morgan Lost, io lo conosco principalmente per Morgan Lost, la copertina è di Lola e Raghi, i disegni all'interno sono di massimo rotondo. Qui alla mia destra vedete alcune immagini tratte dalle preview della Bonelli, del sito della Bonelli, e visivamente lo vedete già, a me piace tanto, è piaciuto, molto un bello stile di disegno, dei buoni colori, pensavo peggio sinceramente, e sotto questo punto di vista non ho veramente nulla da dire. Il prezzo dell'albo è dovuto anche a maggiori pagine e colori, quindi ci può stare. E la storia, di che cosa parla questo ritorno al regno di non mai? Faccio una premessa, non l'ho trovato un albo perfetto, ci sono un paio di criticità che vi eleancherò e probabilmente sono più numerose come numero dei punti favorevoli. Ma questo albo qui, in definitiva, ve lo anticipo già, mi è piaciuto e vi consiglio di recuperarlo, perché l'ambientazione bella è un futuro distopico, medievale fantasy, che è stato futuristico, aveva delle conoscenze male aperse proprio perché siamo in una distopia futura, ed è un'ambientazione che mi piace. Il protagonista è un cavaliere di ventura, un cacciatore di taglia, più o meno come Morgan Lost, molto più o meno, e in questo caso qui ci sono diverse sottotrame che si accavallano l'una sull'altra. Quella che... non farò spoiler, perché non voglio farle, non voglio rovinarvi la lettura di questo albo. Come comincia la storia? La storia comincia con una scena che non è chiara, ma giustamente non vuole essere, vuole darti il via per proseguire la lettura dell'albo. Una persona decide di avere una chiave per accedere ad un mondo strano e vediamo cose strane fondamentalmente. Dopodiché vediamo Brandon che affronta dei mostri delle persone in un'arena per poi scappare e quindi di conseguenza istigare l'odio di chi gestiva quell'arena e che vuole quindi la morte di Morgan Lost ed invierà alcuni suoi uomini per fermare e uccidere. Ho detto Morgan Lost, volevo dire Brandon. La terza trama che inizia un pochettino all'inizio dell'albo vede una vecchia amica di Brandon malata. Brandon vuole cercare di aiutarla a tutti i costi per il rapporto che c'era tra di loro, ma non esiste una cura. Per farlo Brandon dovrà tornare nel regno del non mai, un paese dove c'era già stato il numero 25 della serie regolare, viene citato il fatto che sia nel numero 25 ed è qui, secondo me, una perplessità. Cioè, vuoi fare un nuovo punto di partenza per i lettori e li inviti a recuperare i numeri precedenti in questa maniera, citando eventi passati, secondo me non è un buon modo per invogliare un lettore ad acquistare una serie. Cioè, magari lo invogli perché la storia è bella, non perché se no rischia di non capirci. Ed è un attimino quello... mi sono fermato un attimo perché... Aspetta, calma, mi fai dei riferimenti a cose che io non ho letto ed è pensato per me. La storia risulta comunque leggibile e mi ha messo la curiosità di capire chi era quel personaggio, che cosa ha fatto e perché. E avendo acquistato recentemente tutta la serie lo recupererò, però... Ecco, è stata un pochettino la mia perplessità. Queste sono un attimino le trame che sono imbastite. Ed è bello vedere come il tutto si accavalli una trama sull'altra, mantenendo però una certa coerenza di fondo e un certo interesse nel voler andare avanti per cercare di capire come si concluderà la vicenda. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che all'inizio dell'albo c'è un signore con... Ecco, quel signore lì che dice di avere la chiave per questo posto misterioso avrà un ruolo chiave all'interno della storia. Peccato che viene visto all'inizio, ad un certo punto della trama, e basta fondamentalmente. Non gli viene, secondo me, attribuito il giusto peso per poter capire che ruolo e che funzione abbia. A discapito invece di una parte anche piuttosto corposa, se vogliamo, forse un pochettino troppo, dove abbiamo un cambiamento di Brandon. Un cambiamento legato al bisogno della Sergio Bonelli, l'editore, di rilanciare, e di Claudio Cheverotti, di conseguenza di rilanciare il personaggio con un nuovo look, un nuovo design, e giustificare il perché di questo nuovo design. Se da un lato la cosa può essere interessante, l'ho trovata poco funzionale, secondo me, per la storia che si voleva raccontare. Secondo me era meglio tagliare quella parte lì perché, ok, interessante, ma fino a un certo punto. Contanto di probabilmente lacrima agli occhi dei lettori affezionati, perché effettivamente ci saranno alcune cose che lo capisco da lettore, che possono aver colpito un lettore che già conosceva certe cose, certi personaggi, certe vicende, ma che invece non mi hanno detto nulla a me personalmente perché, ecco, non ci sono così tanto dentro. Questi erano un attimino i miei pensieri su questo numero, su questo speciale di Brandon. Qui sotto nei commenti vi... Insomma, se volete dirmi la vostra, dirvi i vostri pensieri, le vostre opinioni, possiamo tranquillamente dialogare qui sotto e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Come dicevo, l'albo, al di là di queste perplessità che ho messo un pochettino tutte raccolte, e l'albo mi è piaciuto, perché comunque racconta di buoni sentimenti, di buone sensazioni, di valori positivi, e lo fa in una maniera che mi ha conquistato e mi ha intrigato. Tant'è che all'inizio vi dicevo, ci sono dei punti negativi, sono forse più numerosi di quelli positivi, quelli positivi faccio fatica anche a elencarveli, perché sono molto personali, anche le mie criticità sono assolutamente personali, però in definitiva l'albo mi è piaciuto, però sembra che ve ne abbia parlato male. Quindi vi consiglio comunque di darci, se ci riuscite, se potete, dateci un'occhiata e ditemi qui sotto che cosa ne pensate dopo averlo letto, o se lo avete letto prima di veder visto questo video, ditemi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!